Il microcredito per le piccole imprese siciliane è finalmente realtà. L'iniziativa è interamente finanziata dalla restituzione di parte dell'indennità dei 14 deputati regionali del Movimento 5 Stelle. Le imprese da lunedì potranno candidarsi a ricevere il finanziamento iscrivendosi sul sito dei 5 Stelle Siciliani e tra circa un mese dovrebbero essere erogati i primi fondi. I finanziamenti partono da un minimo di 5.000 euro e possono aggiungere un massimo di 25.000. Grazie a tutti.